Lo sta proprio cantando in questo momento, to wish impossible things, ovviamente da WISH. Ultimi 15 minuti qui con il sottoscritto e anche con la musica del Cure tra le notte di copertina di Why Mould Swing, spicca questa citazione, man mano che invecchiamo, diveniamo nello stesso tempo più sciocchi e più saggi, number. Grazie a tutti. 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 Round number. Corriamo perché voglio far ancora starci dentro due brani dalla nostra schedetta di questa sera. Il primo è One Hundred Heels tratto dalle BBC Sessions. Grazie a tutti. 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 One Hundred Heels è una reazione veramente fantastica verso la BBC Session ed è giunto anche il momento dei saluti ragazzi qui su Alto Onoridio al vostro dark chest. ma prima di risalutarvi vi voglio lasciare con questo brano primary, smette, sputa fuori i testi del brano come se gli avessero lasciato un disiustoso sapore in bocca che è ispirato all'idea di morire giovani, innocenti e sognatori, stiamo parlando di primary noi alla settimana prossima ci risentiremo sempre su Atom Radio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti